Il vicepresidente provinciale dell'Associazione Ristoratori del Trentino, nonché presidente della sezione autonoma dell'Alto Garda Eledro, Flavio Biondo, fa sapere che proprio oggi hanno assegnato il bando dei bar della Porfina e dei Sabbioni, rispettivamente per 100.100 euro più IVA all'anno il primo, vinto dalla società Samarcanda con il 127,5% di rialzo e di 125.125 euro più IVA il secondo, vinto dalla Coop Torino con l'82% di rialzo. Biondo affronta alcune questioni prettamente economiche. Gli importi suddivisi sui giorni di effettiva apertura, dice, che sono circa 100, portano ad un effettivo costo giornaliero di 1.221 euro il primo e 1.526 per il secondo. Ora, se per incassare il dovuto aggiungiamo i costi di materia prima e personale dipendente, che equivalgono al 35% per la materia prima e 35% per il personale, tali strutture dovranno incassare mediamente 4.579 euro per la prima e 3.660 euro la seconda, solo per affrontare i costi, senza considerare tutte le altre spese di gestione, le utenze, le certificazioni e le tasse. Soprattutto senza considerare che in caso di stagione piovosa, i giorni buoni per affrontare un simile affitto si ridurrebbero ulteriormente, aumentando inesorabilmente l'incasso medio giornaliero. Ma il Comune di Riva del Garda, prosegue il Presidente, ha considerato questo? Non ha considerato che una simile metodologia di bando porti tali aziende ad un metodo di lavoro concentrato sul mero incasso, nella ricerca di un'efficienza smodata e concentrata a risparmiare il più possibile sulla materia prima e sul personale dipendente, e che questo metodo va ad inficiare sulla proposta qualitativa, senza considerare che se simili realtà si dovessero trovare in difficoltà economica, prosegue, non riuscirebbero a far fronte agli impegni economici e porterebbero nel baratro economico anche il personale dipendente, i fornitori, il pagamento dell'affitto stesso. In questo modo si inficiano tutti gli sforzi che le associazioni di categoria stanno facendo per sollevare la risposta qualitativa, la professionalità, il servizio reso al turista, il tanto ambito brand Garda Trentino. Quindi, conclude il Presidente Biondo, mi chiedo, ma perché il Comune invece di andare a fare un bando al massimo rialzo non è andato a scegliere un'offerta economicamente vantaggiosa? Perché in questo caso chi si aggiudica alla gara deve essere sensibile ad un disciplinare qualitativo e professionale, che va a creare un punteggio che si compone sulle efficienze e sulla professionalità della ditta che affronta l'appalto, dando così al bando non una mera risposta economica, ma una risposta turistica qualitativa. Non saranno i 50.000 euro in più e in meno che modificano gli equilibri di un bilancio comunale di una cittadina turistica come Riva del Garda. Un ultimo dubbio mi sorge, mi sorge, conclude Biondo, ma il bando al massimo rialzo in questi casi è a norma di legge?